Signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti di nuovo ancora ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, nel precedente video io avevo accennato ad alcune questioni sulla logistica tedesca lanciate da Richard Overy in La strada della vittoria. Questo fondamentale libro che ho recensito qualche giorno fa è che vi consiglio caldamente nuovamente di leggere se volete capire tante cose sulla seconda guerra mondiale. Allora, dicevo, nel precedente video ho parlato dei problemi della logistica tedesca e in questo caso però in questo video parliamo un attimo di come i tedeschi cercarono di risolvere la crisi della meccanizzazione, la crisi dei loro mezzi corazzati, insomma come cercarono di ripianare le perdite disastrose subite durante Barbarossa e durante la campagna d'inverno 41-42. Perché nonostante i grandi successi di Barbarossa ripeto la Wehrmacht ebbe perdite spaventose e come dico sempre citando due frasi di Guderian, la prima è la vastità della Russia ci divora, la seconda è detta nel settembre 41, i russi stanno imparando in fretta la lezione e la lezione la impararono fin troppo bene come si vide negli anni successivi. Allora, ci dice Overi che nel corso dell'inverno 41-42 l'esercito tedesco sperò di far fronte al crollo delle unità corazzate grazie all'adozione di nuovi carri in grado sia di avere la meglio sui T-34 sovietici sia di resistere al fuoco anticarro grazie a una corazza nettamente più spessa. Hitler ebbe in questo progetto un ruolo guida ma invece di un carro che fosse di agevole manutenzione e facile da produrre in gran numero pretese mezzi di grandi dimensioni e peso notevole tecnologicamente complessi. Il risultato furono il Tiger e il Panther, mezzi dotati di una maggiore potenza di fuoco che però risultarono lenti e difficili da manovrare rivelandosi quindi particolarmente impacciati su terrini pesanti. Quando Hitler insistette per mandare in battaglia i primi Tiger all'inizio dell'estate 1942 il risultato fu un fiasco. su un sentiero costeggiato da paludi i carri caddero in un'imboscata dei sovietici. Il primo e l'ultimo furono colpiti sui fianchi e sul retro scarsamente protetti immobilizzando così gli altri quattro che furono distrutti l'uno dopo l'altro. La fonte di questo scontro di questo disastroso debutto del del tigre in battaglia viene dalle memorie di Albert Speer pagina 291 quindi non me lo sono inventato io non se l'è inventato Overi è un resoconto che viene da Speer ovvero sia l'uomo che aveva in mano la produzione dei tigre ok allora dicevo il battesimo del fuoco dei panther non fu più favorevole la prima serie fu mandata in battaglia prima ancora di completare la messa a punto. Tutti e 325 sì tutti i 325 panther dovettero essere rimandati a Berlino per modifiche allo sterzo e ai comandi il motore Maybach si rivelò inadeguato e dovette essere potenziato facendo così di un pezzo tecnologicamente complesso qualcosa di ancor più sofisticato. Il livello tecnologico dei nuovi carri era tale da renderne difficile produzione e manutenzione inoltre erano troppo pochi per spostare l'asse della bilancia della guerra tra blindati a favore della Germania. Nel 1943 erano troppo pesanti e ingombranti per poter essere usati su un terreno che non fosse una pianura asciutta nella stagione estiva e come gli altri veicoli tedeschi erano difficili da riparare. Il Tiger richiedeva un piccolo esercito di meccanici per essere messo in funzione mentre la quantità di pezzi di ricambio prodotti era infima. Per ogni dieci carri di questo tipo venivano prodotti solo un motore e una trasmissione di ricambio. Ironia della sorte la trasmissione era proprio l'organo più delicato del Tigre. Va bene. I nuovi carri pesanti avrebbero dovuto essere riparati sul fronte ma la mancanza di attrezzature adeguate per il lavoro d'officina o di adeguate scorte di pezzi di ricambio produssero una lunga teoria di autocarri che trasportavano i veicoli danneggiati verso le officine in Germania a 2000 miglia di distanza. Allora anche con l'adozione di carri di qualità superiore il lento logoramento delle risorse tecniche tedesche sul fronte orientale non poté essere evitato. Tanto l'armata rossa quanto i tedeschi facevano affidamento soprattutto sui cavalli ma le scorte sovietiche di motoveicoli erano in costante crescita mentre quelle tedesche presero a calare dopo aver raggiunto l'apice nel gennaio del 43. Il numero di trasporti semicingolati crollò da 28.000 nel 1943 a 11.000 alla fine del 44. Quando le forze armate tedesche presero a indietreggiare non si fece più alcuno sforzo per conservare la mobilità e gli standard di meccanizzazione preferendo indirizzare l'impegno produttivo all'armamento pesante della fanteria necessario per gestire la lunga ritirata. Persino i carri Tiger e Panther nonché l'ingombrante Königstiger e il Maus che vennero dopo diventarono armi di difesa, piattaforme mobili anticarro per frenare gli attacchi corazzati del nemico. Il loro progressivo passaggio da armi offensive spiega perché le truppe tedesche conservassero un'efficienza bellica notevole anche quando si trovarono in schiacciante inferiorità di blindati e di aerei, ma per il grosso dell'esercito tedesco durante il 1943 e il 1944 si registrò una progressiva diminuzione del numero dei carri e dell'aviazione d'appoggio degli autocarri e degli autotreni per spostare la fanteria e le scorte e persino dei pezzi di artiglieria. I soldati tedeschi fecero l'abitudine a combattere senza nessun aereo amico all'orizzonte con i rifornimenti di carburante e munizioni in calo con camion e carri rimasti senza copertoni, pezzi di ricambio e olio alle lunghe marce a piedi o in slitta. Quel poco armamento di qualità a disposizione bastava sostenere qualche sacca di resistenza all'altezza della situazione. Il resto dell'esercito combatteva una versione aggiornata delle battaglie di fanteria e artilleria del 1918. Allora, in poche righe overi demolisce spietatamente il mito del Tigre e del Panther come armi efficienti e invincibili, dimostrando come ebbero sempre dei grossi problemi. Le fonti sono le memorie di Speer, ma ci sono anche le memorie dei combattenti e i resoconti dei combattenti, sia tedeschi che russi che americani. In pratica, come ci spiega perfettamente overi, mentre gli alleati russi e anglo-americani uniti avevano focalizzato gli sforzi in un'unica direzione, ovvero sia, ripeto come ho spiegato quando ho recensito questo libro, ok? Semplificazione, standardizzazione, facilità produttiva, facilità d'uso. Elementare Watson direbbe qualcuno. Gli alleati ci arrivarono, i tedeschi no, perché continuarono a produrre una gran massa di modelli diversi, ripeto, carri armati, veicoli, autoblindo, moto, auto, eccetera, 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 con pochi o niente pezzi di ricambio a disposizione, perché mancando la standardizzazione, ovviamente la trasmissione del Tigre non poteva essere montata sul Panzer IV, la trasmissione del Panzer IV non poteva essere montata sul Panther, la trasmissione del Panther non poteva essere montata sul Tigre, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, standardizzazione. Gli americani preferirono puntare tutto sul non perfetto Sherman, di cui ho già parlato in un altro video, ma lo Sherman era un carro semplice, rustico, robusto, di facilissima manutenzione, di facilissimo uso e soprattutto estremamente affidabile. I russi focalizzarono la maggior parte della loro produzione su che cosa? Sul T-34. Salvo poi arrivare alla serie dei carri armati Stalin, i JS-2 e 3 e al mio amatissimo, splendido, cazzutissimo, zvero boy. Allora, la questione è semplicemente questa. Le parole di Overi sono estremamente chiare e dimostrano come la Germania non fosse in grado ormai di tenere il passo delle produzioni belliche, di come la loro resistenza folle, disperata, mitologica, diciamola così, fosse destinata solo a rallentare l'avanzata degli alleati. Perché? Perché non avevano più i mezzi. La macchina bellica alleata era oramai a pieno ritmo, la macchina bellica alleata ormai non poteva più essere arrestata o contrastata. Mentre i tedeschi, oltre a dover fare i conti con i bombardamenti aerei, perché ricordiamoci, nonostante quello che si dice, la campagna di bombardamenti aerei sulla Germania contribuì molto al rallentamento delle produzioni belliche. Cioè si dice, ah ma perché nel 1943-44 la produzione bellica tedesca era aumentata rispetto a quella del 39-40. Vero? Ma di quanto sarebbe aumentata? Cioè era aumentata grazie, finalmente, un pochino grazie alle razionalizzazioni introdotte molto a fatica da Speer. Ma di quanto sarebbe aumentata la produzione bellica tedesca se non ci fossero stati i bombardamenti alleati? pensate a questa cosa qua, pensateci. Comunque sia, ripeto, la considerazione sulla crisi irreversibili in cui precipitò l'esercito sulla crisi della meccanizzazione dell'esercito tedesco è mirabilmente spiegata da Overe in questo libro. Ripeto, leggetelo perché finalmente consente di gettare uno sguardo nel cosiddetto dietro le quinte del conflitto. Cioè non si parla tanto di battaglie, ok? Ma di cosa si faceva per arrivare a combattere quelle battaglie nel miglior modo possibile. equipaggiando, rifornendo e armando le truppe e soprattutto fornendo loro materiale dal camion al fucile, dal carro armato all'aereo che fosse di facile produzione, facile manutenzione, facile uso ed estrema affidabilità. Tutto qua. Il segreto, ripeto, il segreto della vittoria alleata è tutto qua. Semplificazione, standardizzazione, produzione industriale in serie senza perdere troppo tempo, la focalizzazione della produzione sugli obiettivi da raggiungere, la logistica, la logistica, la logistica, la logistica. Tutto qui. Quindi, cari signori, come sempre, vi retero il mio invito a leggere questo libro, La strada della vittoria di Richard Overy e come sempre aspetto le vostre considerazioni nei commenti, aspetto che mi lanciate le vostre opinioni e che mi diciate i vostri suggerimenti, le vostre considerazioni nei commenti. Come sempre, arrivederci al mio prossimo video e come sempre, tanto per scambiare, ciao!